Le imprese toscane di micro, piccole e medie dimensioni, protagoniste della terza edizione di Primavera d'Impresa, presentata a Firenze nella sede della Presidenza della Regione Toscana. Appuntamento il 21 marzo a Livorno per premiare gli imprenditori più creativi. Negli ultimi anni la Regione, ha detto l'assessore regionale alle attività produttive Stefano Cioffo, ha finanziato circa 900 imprese con una dotazione di 40 milioni di euro e si è distinta per l'uso delle risorse europee. È un'azione costante che la Regione ha cercato di sostenere con contribuzioni importanti in questi cinque anni, utilizzando le risorse comunitarie a pieno. Fra l'altro abbiamo intercettato la premialità per quelle regioni virtuose che raggiungano la piena utilizzazione delle risorse comunitarie. Sono state tutte indirizzate verso l'internazionalizzazione, la ricerca e lo sviluppo, l'innovazione tecnologica. Nelle precedenti edizioni Primavera d'Impresa ha coinvolto 150 aziende in tutte le province, con l'intento di aumentarne la capacità di stare sul mercato, creando una rete tra i sistemi produttivi. L'obiettivo fondamentale che abbiamo davanti è quello di sostenere chi fa innovazione, le piccole e medie e le micro imprese che rappresentano l'asse portante dell'economia nazionale e quindi anche dell'economia toscana. Le imprese interessate a partecipare a Primavera d'Impresa possono candidarsi sul sito www.primaveraimpresa.it presentando un progetto che ha permesso loro negli ultimi anni di crescere, rinascere, posizionarsi sui mercati e aumentare la competitività. L'evento a Livorno sarà così strutturato. È una mattinata di incontri tra le aziende, tutti programmati sulla piattaforma digitale che sarà aperta la prossima settimana. Pomeriggio un dibattito con una guest star che ancora non vi rivelo e poi una Gorà con Luca Telese che coordinerà gli interventi con tutti gli enti e le aziende presenti.